Sono Roberto, istruttore di Sporlandia. Questa seconda settimana toccherà a me intrattenervi un pochino a casa. Faremo degli esercizi di bolemming, gioco con la palla e con le mani, semplicissimi. Si possono fare in un ambiente chiuso, come può essere una stanza, senza usufruire di muri o danneggiare parti della casa. Primo esercizio, prendo la palla, la lancio, un tocco con le mani e le ripeto. Ok? Più difficile, due tocchi, due tocchi. Più difficile, avanti dietro, avanti dietro, avanti dietro. Ancora più difficile, posiziono la palla dietro la mia schiena, la faccio passare davanti e la prendo. La posiziono, la faccio passare davanti e la prendo. Posso usare anche le gambe, destra, sinistra, destra, sinistra, sempre lanciandola, facendola cadere, con un imbalzo sulla coscia, la prendo. Vi metto in questa posizione, faccio l'otto volante, facendola passare sotto le gambe, anche questo è semplicissimo come gioco. Voglio usare un pezzettino di muro, lancio e prendo, lancio e prendo. Bene, questi sono esercizi semplici che potete fare da soli o in coppia, se avete un fratello, una sorella, la papà, la mamma, eccetera. Che dire, vi auguro una buona settimana, spero che questi esercizi che vi ho proposto siano facili, ci vediamo la prossima settimana. Ciao e mi raccomando, restate in casa. Ciao!